Il campo di Ferramonte di Tarsia fu l'unico esempio di un vero campo di concentramento costruito dal governo fascista in seguito delle leggi razziali e rappresenta storicamente il più grande campo di internamento italiano. A partire dal giugno del 1940 vi transitarono circa 3.000 internati. Il campo si estendeva su un'area di 16 ettari ed era composto da 92 baracche di varia dimensione, molte delle quali con la classica forma d'u e forniti di cucine, latrine e lavabi comuni. Del campo di concentramento si è parlato in una saletta dello stesso campo Ferramonti in occasione della giornata istituzionale sull'ottantesimo anniversario della liberazione del campo. Dopo tre anni, siamo nel 1943, anno difficile per Ferramonti ma anche quello che vide la sua liberazione. Tra il settembre e l'ottobre del 1943 passò a pochi mesi dal campo l'intirarmata tedesca in ritirata dal sud. Per evitare pericoli, a direzione dispose l'evacuazione del campo e tutti gli ebrei che potevano furono fatti scappare nelle campagne circostanti dove vennero ospitati dai contadini del territorio di Tarsia. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, l'autorità italiana abbandonò il campo e la mattina del 14 settembre 1943 entrarono nel campo i primi camion inglesi. Da quel momento il campo di Ferramonti di Tarsia ebbe una condizione ebraica. Il campo fu ufficialmente chiuso l'11 dicembre del 1945.